E' scattata questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo Lo Sco, nelle province di Trapani, Reggio Calabria, Barletta, Andria, Trani, Cunio, Foggia, Latina, Matera e Prato, per il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro connesso all'immigrazione illegale. Sono oltre 300 gli agenti impiegati sul territorio nazionale che hanno effettuato perquisizioni, controlli e verifiche nei confronti di persone, esercizi commerciali e basi logistiche. L'operazione aveva l'intento di individuare diversi punti di raccolta di lavoratori stranieri e regolari, destinati a svolgere in maniera illegale giornate lavorative in aziende agricole, opifici o esercizi commerciali, frequentemente riconducibili ai cittadini stranieri. Le attività sono state condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalle squadre mobili delle province coinvolte, con il supporto dello SCICO, dei reparti di prevenzione anticrimine e di alcune unità di agliacotteristi, in sinergia col personale specialistico delle ASL e dell'ispettorato del lavoro.